Amici di intertv.it, il caso di dirlo, cuori forti nerazzurri perché bisogna avere dei cuori forti in questi casi. Bentornati da Michele Borrelli alla giornata di mercato con le nostre video news, una giornata emozionante, ma chi l'ha detto che il mercato è qualcosa di noioso, di brutto, da far passare in fretta? Avevamo annunciato all'inizio della settimana una settimana decisiva, scoppiettante, emozionante, ma a questo punto forse non si poteva immaginare. È stata una giornata di mercato incredibile, un po' come ai vecchi tempi, ai vecchi duelli di calciomercato e credo che ormai questo stia passando, stiamo vivendo una trattativa che passerà sicuramente alla storia del calciomercato. Tutto era iniziato in settimana per chi ci ha seguiti con la telefonata di Galliani a Fassone dicendo su Miranda, ma anche su Imbulà, noi non ci siamo. Già lì la telefonata da noi definita diabolica, associando così il Milan al suo simbolo, faceva intuire che c'era qualcosa di forte che stava per bollire in pentola. In effetti così era perché il Milan ha provato così ad accelerare a sorpresa su un obiettivo dichiarato dell'Inter che sta facendo una campagna acquisti così ad oggi pianificando, programmando, ma anche parlandone, riprendendosi anche dei rischi, così come è stato per Tourette o per lo stesso di Bala, Murillo già preso a gennaio, di Miranda vi abbiamo raccontato nelle ultime ore praticamente l'accordo raggiunto per quanto riguarda il giocatore, anche se sul cartellino ci sono varie possibilità e avevamo annunciato che queste possibilità su Miranda sarebbero poi, da queste possibilità sarebbero potute scaturire delle varie conseguenze. Cioè l'Inter punta ad accordarsi con l'Atletico Madrid per una prima tranche di pagamento, 2 milioni, 3 milioni di euro per poi chiudere l'accordo un po' come è stato nell'affare Dodò oppure nell'affare Brozovic, cioè pagare un anticipo per non appesantire tutto il tesoretto su quella trattativa e avere più possibilità di rilanciare in altre trattative. Naturalmente le altre trattative sono principalmente per il centrocampista perché per l'attacco anche si conta di poter fare delle operazioni del genere, di così fantasia o creatività che Ausilio ha dimostrato negli ultimi mercati di avere. Ritorniamo però alla giornata di mercato perché cosa succede? L'Inter forte anche della volontà di Mancini o della voglia di avere sempre come primo obiettivo con Dogbia, così nicchia o comunque va avanti sapendo del fatto suo. Il Milan evidentemente inizia a perdere tutte le sue sicurezze e capisce che bisogna inventarsi qualcosa. Per inventarsi qualcosa Galliani prepara l'assalto cercando di rilanciare una cifra che pensa che l'Inter non potrà mai raggiungere, cioè andare ad accontentare il Monaco in tutto e per tutto. Parte per Monte Carlo, si incontra con i dirigenti del Monaco, con l'entourage del giocatore e in effetti ottiene un obiettivo, quello di allettare il Monaco a così ottenere una cifra alta, quella richiesta. Di solito quando uno fa una richiesta c'è l'offerta e un minimo viene limata sia l'offerta che la richiesta. In questo caso invece il Milan ha puntato al massimo con la paura di ormai di perdere l'obiettivo, stiamo parlando naturalmente di Condogbia, il centrocampista del Monaco, e quindi va forte sul giocatore anche con le disponibilità economiche di questa nuova campagna acquisti. L'Inter risponde, l'Inter non si rassegna anche se in giornata ormai si è stretto l'accordo sempre di più con Imbulà per quanto riguarda il giocatore dell'Olympique Marsiglia, da 15 milioni l'offerta, 25 la richiesta, si era arrivati a una via di mezzo, lo avevamo detto tra 18, 19, 20 si poteva chiudere, però oltre ad avere l'accordo non si chiude la trattativa con Imbulà. Questo per due ragioni, uno l'Inter giustamente vuole vedere sugli obiettivi principali come sfruttare tutte le risorse che ha, quindi potrebbe prenderli tutti e due. Noi lo abbiamo sempre escluso, abbiamo detto l'uno esclude l'altro, però c'è sempre la volontà dell'allenatore e noi anche nelle video news con il mister Scanziani abbiamo più volte sottolineato come poi alla fine sui valori tecnici a parità di budget sarà Mancini ad avere l'ultima parola. E nel centrocampo che abbiamo più volte ipotizzato Mancini potrebbe anche pensare di preferire un centrocampo totalmente nuovo col sacrificio di Kovacic, però un centrocampo che nessuno potrebbe pensare inferiore o uguale a quello che l'Inter aveva. Quindi l'idea di avere due giocatori, o Motta o Felipe Melo, cioè un regista vero o addirittura Kondo Bia insieme anche a Imbulà. Questo sarebbe così un passo molto importante, molto grande che non permetterebbe oggi all'Inter di non cedere nessuno. Questo l'abbiamo sempre detto, sarà un mercato autofinanziato. L'unica strada è quella appunto ad oggi di cedere Matteo Kovacic, però l'Inter potrebbe avere un centrocampo con Kondogbia, uno tra Imbulà e Motta, o lo stesso Melo, anche se Motta sta giocando a rialzo con l'Atletico Madrid e con il Paris Saint-Germain, e gli altri due, un trequartista tra i due che ci sono nella rosa, Hernanes e Kovacic, Hernanes e Shakiri, e l'altro tra Brozovic e Guarin. Quindi un mercato in completa evoluzione, però l'Inter ha visto che su alcuni obiettivi non si può più aspettare. Facciamo un po' il punto anche andando proprio ora per ora a vedere quella che è stata la giornata, proprio da InterTV.it, l'incredibile giornata dell'Inter a Monte Carlo, tra Kondogbia e Imbulà. Ausilio che dice, dopo che Galliani, possiamo tornare un attimo in studio per dire che Galliani a un certo punto dice, mi sembra di essere al trofeo team, perché oltre a noi e il Milan c'è anche la Juventus. La Juventus che si affretta così a smentire il tutto, l'Inter ancora non aveva parlato a un certo punto, però dopo l'arrivo di Ausilio, tra l'altro accompagnato da Fassone a Monte Carlo, le prime dichiarazioni anche ufficiali dell'Inter. Non abbiamo ancora le cifre finali, dice Ausilio, con il Milan non ci saranno problemi. Però scorriamo un attimo la notizia per ricostruire, come dicevamo, la giornata. L'Inter che chiude per Imbulà, diciamo che c'è l'accordo anche con l'Olympique Marsiglia, il Monaco che chiede i 35 milioni, forte del rilancio del Milan, l'Inter che a quella cifra non era ancora arrivata, i rossoneri che anche tentano il giocatore con un'offerta addirittura di 4 milioni di euro, più eventuali bonus, l'offerta dell'Inter era inferiore, ferma ai 3,5 circa, ai 3 milioni, 3 milioni e mezzo. Ausilio che dice? La dichiarazione forte del direttore sportivo dell'Inter. Avete visto, i rapporti con il Milan sono ottimi. Noi abbiamo fatto questa cena con i dirigenti del Monaco e gli agenti di Condogbia, abbiamo fatto degli abboccamenti ma non abbiamo ancora le cifre finali. Non ci saranno problemi tra noi e il Milan. Questo lo dice Ausilio alla fine non solo di una cena con l'entourage di Condogbia e con il vicepresidente del Monaco, ma lo dice anche dopo un incontro con il Milan, perché a Monte Carlo c'erano tutti, a questo punto si sono incontrati, dopo la telefonata di Galliani a Fassone, a cui l'Inter evidentemente non ha affatto abboccato, cioè l'obiettivo del Milan era quello di far ritirare l'Inter definitivamente su Imbula, magari un altro centrocampista insieme a Imbula e Miranda e avere via libera su Condogbia. Così non è stato, si rivedono a Monte Carlo e chissà anche lo stesso Fassone che era presente, che cosa avrà detto poi a Galliani. Abbiamo però anche le parole di Fassone, perché l'incontro va avanti nella notte, eccolo qui l'ultimo aggiornamento, l'Inter le sta provando tutte per Condogbia, Fassone dice parti più vicine, purtroppo no, domani continuiamo a trattare. Perché cosa è successo? Quando è finito l'incontro tra Inter e Milan? Il Milan a questo punto era defilato intorno a Luna, l'Inter invece va avanti a trattare con i dirigenti del Monaco e contemporaneamente con l'entourage di Condogbia. Si va avanti a trattare, l'Inter si vede richiesta una cifra più alta di quella che pensava di poter di poter così strappare, ma non si tira indietro, forte della volontà anche di Mancini, evidentemente anche del benestare di Tohir. Mancini aveva come primo obiettivo Yaya Touret, l'alter ego di Yaya Touret è Condogbia e quindi Fassone e Ausilio cercheranno di accontentarlo fino alla fine. Perché cercheranno? Perché le ultime dichiarazioni alla fine di questo incontro di mercato tra l'Inter e il Monaco è questo. Fassone che dice parti più vicine, purtroppo no, se si continua a sperare, vediamo, domani andiamo avanti a trattare. Domani andiamo avanti, noi siamo intorno alle tre e mezza, quattro meno un quarto e facciamo il riassunto di una giornata che non può dire ancora tutto, ormai siamo nella nuova giornata. Sabato però potrebbe davvero essere la giornata decisiva in cui tutti i tasselli andranno in ordine. Noi sabato abbiamo già programmato la trasmissione con voi tifosi studio, Inter Supporters, dalle 17 alle 18 e 30, subito dopo questa trasmissione, trasmissione speciale su intertv.it per fare il punto su questa trattativa e naturalmente vi aggiorneremo anche con le notizie sul sito nella mattinata, tarda mattinata di domani, perché l'incontro, l'aggiornamento, anche loro devono dormire e sarà intorno alle 10, le 11, insomma alla tarda mattinata. Vediamo anche in questa video news come poi aprono i giornali del 19 giugno. Condo Derby, sfida Milan-Inter per Condo Bià, dice la Gazzetta dello Sport. Ancora Gagliani vola a Monte Carlo convinto di chiudere con il centrocampista, ma in serata arrivano anche i Nerazzurri, Fassone e Ausilio, poi tutti a cena nello stesso ristorante. Questo è stato il grande intrigo di mercato che anche il Corriere dello Sport commenta così. Eccolo Derby totale, Milan-Inter a Monte Carlo per Condo Bià. Gagliani punta l'accordo con il Monacolo, offerte di 30 milioni, poi abbiamo visto in realtà anche più alta, Mancini conta sul sito del giocatore, Ausilio prepara l'assalto finale, Rossoneri scatenati per l'attacco anche Jovetic, perché vedete che poi se il Milan dovesse perdere Miranda, dovesse perdere anche Condo Bià su Imboulin e c'è il ritardo, è sicuro ormai che sarà Jovetic, sarà Salah, però vorranno rispondere anche per quanto riguarda l'attacco e portare a casa un vessillo, perché sarebbe veramente una vittoria schiacciante. Pensate a come è iniziata questa settimana, con i tifosi dell'Inter che praticamente insultavano chiunque nei vari forum, con i giornali e con tutte le trasmissioni sportive che gridavano alla vittoria, c'è chi aveva detto un 2-0, chi aveva detto un 4-0. C'era da capire se Ibrahimović e Jackson Martinez, insieme a Condo Bià e a Boateng, potevano essere così definiti un 4-0 per il Milan. Siamo nella notte tra il venerdì e il sabato e qui se era 4-0 lunedì siamo al cappotto al ritorno, siamo circa sullo 0-4 nella partita di ritorno, è vero che domani sarà una giornata importante, però l'Inter ha le spalle abbastanza coperta perché comunque ha l'accordo con Imboulin, comunque ha chiuso con Miranda e comunque può andare forte anche sull'attaccante se proprio dovesse andare male su Condo Bià. Però forte dell'assenso del giocatore dopo l'incontro ad Appiano Gentile con i vertici dell'Inter e anche con lo stesso Mancini che sta giocando tutto il suo peso, gli altri club non hanno un allenatore che può essere così convincente e anche può avere un certo curriculum perché va bene Mijelovic, vanno bene tutti gli altri, ma Mancini sul mercato può dire la sua, molto più degli altri allenatori della Serie A. Quindi l'Inter forte di questa parola data, giustamente il Monaco dice stanno rialzando l'offerta, voi volete rispondere, adesso il pallino del gioco è nelle mani dell'Inter. Magari per i programmi fatti non si potrà o non si vorrà spingere fino a determinate cifre, anche l'Inter avrà il suo limite su questa trattativa per poter poi portare a termine tutte le altre operazioni, però l'Inter ha ancora una volta il coltello dalla parte del manico e spero che veramente i tifosi dell'Inter non si facciano più così ingannare da delle trattative così che vengono chiuse ogni giorno sempre a favore degli altri quando vediamo che così non è. Gli altri hanno parlato in questo caso, perché è vero che su Touré era stato molto diverso, però Mancini in quel caso era forte di quello che gli aveva detto Touré, poi il Manchester City ha completamente così cambiato le carte in tavola, anche se il giocatore aveva dato l'assenso per arrivare all'Inter, oggi assistiamo a questa trattativa di mercato emozionante e anche così che ci fa tornare un po' indietro nel tempo perché le milanesi fuori dall'Europa, non era mai successo, vogliono tornarci il prima possibile e questa sarà un'estate, lo abbiamo detto tante volte, che riserverà un bel mercato e comunque un Inter che si rinforzerà. Ora vedremo nei dettagli come, ma l'Inter è presente più che mai sul mercato e in queste ore viaggiorneremo anche domani, sabato o oggi, perché ormai siamo nella notte inoltrata, siamo ormai quasi alle 4 o meno un quarto, viaggiorneremo con quella che potrebbe essere veramente la giornata conclusiva per la trattativa anche del centrocampista. Fatto il difensore, fatto il centrocampista, sarebbe un mercato totalmente impostato già prima del ritiro e quindi l'Inter avrebbe poi, non dico il percorso in discesa perché la campagna cessioni sarà molto importante e influirà per gli attaccanti perché l'Inter deve prendere due giocatori in attacco, però inizierebbe benissimo così l'estate del mercato. Grazie per averci seguito, rimanete con noi, un saluto da Michele Borrelli e sempre Forza Inter, buonanotte a tutti, buongiorno a tutti a seconda di quando ci state vedendo e buon mercato a tutti.